Amici di giornale.sm siamo oggi qui con Samuele Serra, l'organizzatore della manifestazione Titan Country Night di sabato 8 agosto a Fiorina. Samuele, spiegaci un po' che tipo di manifestazione assisteremo sabato sera. Sabato sera assisterete alla vera Texas Music, la Country Music, che arriva direttamente dal Texas, ovvero con tre artisti di livello internazionale, uno su tutti Jackson Taylor, un artista riconosciuto a livello mondiale, un artista che appassionerà gli appassionati e i non appassionati. Ci sarà da divertirsi, toro meccanico, ingresso completamente gratuito. Venite a divertirvi con noi perché sarà una festa veramente bella. Bene, raccontaci qualcosa di più di Jackson Taylor, mi dicono che è uno dei cantanti emergenti del genere. Sì, esatto. Jackson Taylor raccoglie le realtà che è stata di Johnny Casti, Willie Wong, di tanti altri cantautori texani. Uno su tutti vogliamo ricordare quanto Jackson Taylor prende spunto dalla vita, dalla continuità, da quello che gli capita giornalmente, da tutto quello che è intorno. Bene, allora, ma ci sarà solo Jackson Taylor? No, assolutamente no. Insieme a lui arriveranno anche altri due cantautori texani di livello anche loro mondiale, che sono in tour in tutta Europa. e porteranno anche loro le loro canzoni, la loro poesia, perché da qualcuno viene considerata addirittura poesia. Sono Drew Kennedy e Freddie Hayden. Insieme a loro poi canteranno anche i De Clos, che sono il miglior gruppo in assoluto di musica country a livello italiano. Mi raccomando, tutti presenti a Titan Country Night. Mi raccomando, tutti presenti a Titan Country Night. Grazie a tutti.